Ciao a tutti ragazzi, sono il Piccolo Ruby e oggi voglio dilettarvi con un quiz letterario, ovvero vi farò una domanda, vi darò quattro opzioni del tempo per riflettere e poi vi darò la risposta esatta. Partiamo con la domanda. Quale di questi libri è stato censurato in America? La risposta A è L'amante di Lady Chatterley, la risposta B è Madame Bovary, risposta C Harry Potter, risposta D Lolita. Adesso vi do qualche minuto per rispondere. Stop! La risposta esatta è la numero, la lettera C, Harry Potter. Ebbene sì signori, anche se gli altri due, gli altri tre per altri motivi potevano essere stati censurati, per esempio Lolita che parla di un pedofilo, Madame Bovary che parla di un'adultera e anche L'amante di Lady Chatterley. Pare che il libro Harry Potter sia stato censurato da un'associazione cristiana chiamata Bible Belt perché il best seller poteva essere capace di istigare le pratiche magiche e all'occultismo. Allora io ho letto Harry Potter che praticamente avevo 19-20 anni, mentre c'è gente che l'ha letto quando era appena uscito, quindi che era relativamente giovane. Io per quanto riguarda me non faccio pratiche sataniche, non faccio pentagrammi per terra, non faccio sedute spiritiche, non ammazzo agnelli e l'ho trovato un libro bellissimo. E penso anche gli altri, quelli che l'abbiano letto in età pre-adolescenziale, quindi queste mamme non lo so. Io penso che si dovrebbero preoccupare di altro perché sono altre le cose pericolose e non di certo un libro come Harry Potter. Bene, spero che questa rubrica vi piaccia, spero che questa curiosità vi abbia interessato, sti americani veramente non li capisco. Io vi do appuntamento alla prossima volta con il piccolo Ruby e il quiz letterario. Alla prossima, ciao!